Indovinello! Vediamo se riesci a trovare l'insetto foglia all'interno di questa teca Metti in pausa se vuoi trovarlo Tra poco ti dico la risposta Comunque mi trovavo a casa degli insetti a Città della Scienza a Napoli Dove ci sono parecchi animali strani tra cui una bella tarantola Ad ogni modo l'insetto foglia è qui Aggrappato ad una foglia E ci vediamo con il prossimo video a Città della Scienza a Napoli Ciao! Ciao!